Sono stati momenti difficili, momenti dove veramente ci abbiamo sempre creduto perché abbiamo sempre detto con la società innanzitutto da ringraziare la proprietà perché se siamo arrivati a questo mi ha dato perlomeno a me la possibilità di lavorare in maniera eccezionale. Una stagione così non viene da nulla, viene da tanto lavoro, non solo come squadra che tutti vedono in campo ma a partire dai magazzinieri per arrivare in cima alla piramide della proprietà. Vorrei veramente ringraziare tutti perché abbiamo fatto felice un popolo che per noi era la cosa più importante. 20 anni che si mancava dal calcio che conta e oggi sarà la dimostrazione perché non so quanti c'erano, 8.000, 9.000. Penso che sia l'esodo in trasferta più grande degli ultimi anni ma anche a partire dalla Serie A in Italia quindi non è di tutti i giorni. Il popolo catanzarese ha dimostrato per l'ennesima volta di esserci, c'era gente che scendeva da Milano, da Torino, addirittura dalla Svizzera. La prima cosa che mi hanno detto prima in intervista a Bordocampo è stata una rivincita perché Padova è stata veramente una serata che ci rimarrà dentro comunque a livello negativo e penso che dalle sconfitte e dalle cose più brutte uno possa ripartire e possa creare quello che si è creato quest'anno. Tant'è vero che da lì siamo ripartiti tutti e fin dalla prima giornata i ragazzi che hanno fatto un grande lavoro con il suo staff hanno dimostrato di volere fortemente questa promozione. Quindi contento soprattutto, ho appena chiamato il sindaco quindi strafelice, una città che se lo merita, una città che ha sofferto tanto, una città che ha vissuto tanti anni bui. Penso che questa festa sia altamente emozionante anche per questo, non è che si vince tutti gli anni. Quindi ho sempre detto che quando sono arrivato a vincere a Catanzaro per me è come vincere forse cinque campionati consecutivi da qualsiasi altra parte per tutte le difficoltà del caso. Quindi è una soddisfazione maggiore, sono onorato di rappresentare a livello dirigenziale questa società perché veramente mi hanno dato modo e la possibilità di lavorare e di far sì che tutto ciò accadesse. Direttore dell'equivante, un sogno a Catanzaro, lei fu il prodotto del cuore della gente perché ha un carattere simile al nostro, lei è un po' un artista, un po' atipico, lei è un terrone. Tutti gli effetti. Non è da tutti, non è facile e questo ho fatto sì che potessi arrivare tre anni fa e fare quello che ho fatto con tutte le critiche del mondo, con tutto quello che è potuto succedere. Anche se comunque il primo anno siamo arrivati secondi, non è che abbiamo fatto un campionato, però nel percorso appena arrivato era difficile. È chiaro che, come dicevo, vincere qui è una soddisfazione doppia. È chiaro che il merito va distribuito su tutti. Il carattere mio è questo, quindi nel bene e nel male, quindi dico sempre che è un pregio, non un difetto dire quello che pensi, alla mia maniera. Sono stato criticato tanto ma sono sempre andato avanti per la mia strada perché ho sempre avuto una società che mi ha sostenuto, una società che mi ha lasciato fare il mio percorso. Si sono fidati, sempre con a fianco il presidente Floriano Norte che non è mai mancato. Si sono susseguiti diversi direttori sportivi perché in tre anni ne abbiamo cambiati tre. Si sono susseguiti due allenatori perché anche l'anno e mezzo di Calabra è stato comunque un anno importante. È chiaro che l'avvento di Vivarini ha portato qualcosa in più che lo dimostra oggi come gioca questa squadra. Quindi penso che a tutti va dato merito, dal primo all'ultimo che hanno lavorato. Il fatto di essere qui stasera a parlare e a rappresentare una società così importante penso che sia un buon auspicio per il futuro. Allora io e Pietro indossiamo questa maglia in memoria di un mio carissimo amico che è Viterbese Doc, che è tifosissimo della Viterbese che mi ha accolto nella sua casa per tre anni. Quindi c'è un rapporto straordinario con la famiglia e quindi nasce in una sera di quest'estate che lui era un malato terminale. Dopo una settimana ci ha lasciato e tutte le sere mi faceva una videochiamata alle 10 di sera alle 22. Quella sera ero a cena con Pietro e Pietro era al corrente di questa cosa. Quando mi ha fatto la videochiamata ho girato il telefonino verso Pietro. Lui l'ha riconosciuto subito non sapendo che ero a cena con Pietro. E gli ha detto proprio Viterbese, gli ha detto «Oh Bomber, mi raccomando, mi devi fare una promessa». E gli ha detto «Dimmi, Alfredino». E gli ha detto «Oh, l'amico mio me lo devi portare in Serie B». E a Pietro gli vendono gli occhi lucidi e gli disse «Te lo prometto». E da qui nasce questa cosa che portò all'altare la figlia la settimana prima e dopo sette giorni si ne andò. E quindi abbiamo voluto dedicare questa maglia, la parte posteriore, a Alfredino, io e Pietro. Perché ci tenavamo e tutte le domeniche ce lo dicevamo. E sono sicuro che l'unica sconfitta che abbiamo fatto, lui essendo Viterbese Doc, ce l'ha fatto a fare là. La Viterbese quest'anno probabilmente l'hanno conosciuta in tutta Italia per la vittoria, in tutta Europa, per la vittoria contro una macchina di guerra che è il Catanzaro. Quindi è una squadra da record. Quindi tutto il cerchio si chiude. Sono belle cose, sono cose che a livello umano ti rimangono. Ringrazio pubblicamente Pietro che ha voluto fare questa cosa con me, anche se non l'ha mai conosciuto personalmente, ma solo qualche volta per telefono. Però lui era talmente un uomo diretto che quella sera gli fece questa richiesta e Pietro ad oggi, con i suoi 23 gol, ha contribuito pesantemente a questa promozione. Quindi abbiamo pensato di fare questa cosa che è sempre una bella cosa per la famiglia. Allora, la dedicazione per gli altri, la dedicazione anche? Ma io, a parte questo aneddoto su Alfredino, io la dedico fortemente alla mia famiglia perché sono stati tre anni difficili sotto tutti i punti di vista. Io non posso portarmi appresso mia moglie e mia figlia per motivi lavorativi e scolastici. Quindi quest'anno devo dire che sono andato anche oltre perché sono andato a casa solo due volte, neanche tre, due volte, quindi in tutto l'anno. Perché? Perché ci tenevo a stare sul pezzo tutti i giorni. Mia moglie l'ha capito, mia figlia l'ha capito, però le ringrazio fortemente di avermi sopportato e supportato. E l'ho detto prima in diretta perché non è mai facile per noi da fuori. Si vede sempre che chi lavora nel mondo del calcio, dal calciatore al direttore, è sempre tutto bello, però abbiamo una vita come tutti gli altri e abbiamo tante sofferenze, forse peggio di chiunque altro perché alla fine siamo lontani da casa, siamo lontani dai nostri figli, dai nostri... Mia mamma che ha 77 anni l'ho vista due volte, quindi ha sofferto tantissimo, mio fratello, mia sorella e quindi la mia famiglia prima di tutto. E poi la dedico a degli amici a Catanzaro perché veramente siete un popolo fantastico, mi hanno aperto le porte delle loro case, quindi ciò della gente alla quale voglio bene e potrei dire addirittura di amare, quindi... perché quando sei da solo e trovi certa gente che ti ospita tutte le sere diventa qualcosa di eccezionale e ti aiuta ad andare avanti, ti aiuta a fare quello che siamo riusciti a fare, che penso sia la cosa migliore quando non ti senti solo e hai vicino qualcuno che ti sostiene, è sempre importante. E poi chiaramente, non per ultimo perché, le dici per ultimo, però la proprietà perché il dottor Derio, il presidente Floriano e il dottor Gino sono persone straordinarie e penso che nella vita abbiano fatto qualcosa di grandioso a livello lavorativo e questa è una cosa che gli mancava. E dal primo giorno che sono arrivato mi ero ripromesso di far di tutto per cercare di contribuire a tutto ciò, è avvenuto, quindi ne sono onorato, ne sono fiero e la dedico anche a loro. Sì, no, vabbè, io non posso che non dedicarla alla mia famiglia, a mia moglie, a mia figlia e a mio nonno che era un grande tifoso giallo-rosso che sicuramente sarà contento. Breve, ma... Le mie idee di che sono alla prossima puntata. Io chiaramente volevo fare un ultimo appunto. Oggi è la festa del papà e penso che si doverò su da parte nostra a fare gli auguri a tutti i papà, a loro si e non. A me purtroppo il papà è mancato e quindi per me tutti gli anni, quando è la festa del papà, è un'emozione particolare. Stamattina, che mi sono alzato più presto del solito, è chiaro che il primo pensiero è andato a lui e quindi penso che dall'assù sia stracontento e felice e orgoglioso di quello che ho fatto. Grazie.